Ciao a tutti! Oggi prepareremo il semifreddo al caffè espresso. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti più 5 ore di raffreddamento in congelatore. Gli ingredienti sono panna fresca per dolci messa per 45 minuti in congelatore, latte condensato, caffè freddo amaro espresso. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame, mettere la panna e la facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferire in una ciotola capiente. Abbiamo rimosso la farfalla senza lavare il boccale, mettere il latte condensato, il caffè espresso ed amalgamare per 10 secondi a velocità 2. versare nella ciotola con la panna ed amalgamare bene con la spatola. trasferire in stampini in monoporzione. Riporre in congelatore per almeno 4-5 ore. trascorso il tempo il semifreddo è pronto, sformare, decorare e servire. Semi freddo al caffè espresso. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!